E' chiaro che da ieri sera raccogliamo notizie, l'agguato mi sembra di chiara matrice camorristica e quindi credo che quella sia la direzione sulla quale gli investigatori stanno lavorando. Noi da parte nostra stiamo seguendo la vicenda e alcune tematiche ovviamente che non attengono all'omicidio ma alla vittima erano comunque note al comando della Polizia Municipale. Quindi diciamo erano in programma, provvedimenti? Ma sai in questo momento è una persona che è stata ammazzata e quindi chiaramente va la vicinanza ai familiari del Poliziotto Municipale ammazzato con questo agguato che mi sembra di indubbia matrice camorristica. Il Poliziotto Municipale era interessato da un significativo procedimento disciplinare su tematiche che attenevano a vicende del passato.